Immagina che stai guidando tranquillo e ad un certo punto sul lato della strada vedi un nuovo chiosco che vende carne, hamburger, roast beef, cose così. Decidi di fermarti, assaggi uno di questi hamburger e lo trovi davvero buono. Poi però, solo qualche giorno dopo scopri che dentro quegli hamburger c'era qualcosa che mai avresti voluto mangiare. Ragazzi, buonasera. Sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E il caso di oggi, specialmente verso la fine, è talmente disgustoso che vi farà venire la nausea. Ho sempre sentito parlare di questo signore. Sui social ormai appare periodicamente in qualche pagina che parla di cose macabre e oscure e misteriose. Ma non mi ero mai informato a fondo sulla sua storia e quando l'ho fatto sono rimasto abbastanza sconvolto. Dopo aver fatto le ricerche per questo video, sinceramente mi è passata tutta la voglia di andare a mangiare fuori, in un ristorante o in una tavola fredda perché continuavo a pensare a ciò che aveva fatto Joe. Ma per fortuna, HelloFresh mi ha salvato. Volevo provarlo da un sacco di tempo anche perché non ho molta fantasia in cucina. E finalmente... Mi è arrivato questo bello scatolone e finalmente posso farvi vedere cosa c'è dentro. HelloFresh è un servizio che ogni settimana vi invierà delle box ricette create in Italia direttamente a casa. Ed è bellissimo perché sarete voi a scegliere cosa farvi inviare direttamente dal sito o dall'app. Nella scatola, come vedete, ci sono tutte le istruzioni per preparare i vostri piatti e tutti gli ingredienti nelle dosi esatte così da evitare sprechi di cibo. E sembra facilissimo anche per me. Queste sono le ricette che ho scelto io per questa settimana ma su HelloFresh ce ne sono tantissime altre tra cui scegliere e cambiano ogni settimana. Ci sono pure opzioni vegetariane così da accontentare il palato di tutti e l'abbonamento è totalmente flessibile. Potete metterlo in pausa o annullarlo per qualsiasi ragione e riprenderlo quando meglio credete. Gli ingredienti sono freschi e di qualità e provengono da produttori locali e direi che si vede. Assurdo che in pochissimo tempo si riesca a creare questo. Ci ho messo circa 35 minuti e devo dire che è venuto proprio bene. Specie se consideriamo che di solito riesco a cucinare solo la pasta in bianco o al pesto. Comunque non mi sarebbe mai venuto in mente di fare una ricetta simile. Anche perché non ho mai tempo per cucinare come penso molti di voi. Ma grazie a HelloFresh vi giuro che è stato facile e divertente. La rifarò anche in futuro perché, cavolo, è strabuono. Ma è buono davvero? Madonna! Poi sul serio, dopo essermi informato sulla storia di oggi non avevo nessuna voglia di andare a mangiare fuori. Quindi HelloFresh mi ha salvato davvero. Improvvisamente prepararsi il cibo a casa è diventato molto più interessante. Ovviamente ho un bel codice sconto per voi che potete utilizzare cliccando il link in descrizione o scansionando il QR code. Il codice è ANDREW50 e vi permetterà di provare il meal kit di HelloFresh a partire da 2,30€ più la spedizione gratuita. Fatemi sapere se lo proverete e ditemi anche quali ricette ordinerete perché sono curioso. Detto questo, grazie infinite a HelloFresh. Sono davvero contento di aver provato il loro servizio, le loro box. E grazie anche a voi per l'attenzione. Vi ho fatto venire fame probabilmente. Ma ora, con la storia di Joe, vi passerà. Joseph Roy Matney, chiamato da tutti semplicemente Joe, nasce il 2 marzo 1955 nel Maryland. Ha 5 fratelli, quindi in tutto sono 6 figli. E diciamo che il suo passato e la sua infanzia non sono molto chiari. Ci sono infatti due versioni dei fatti e sono abbastanza discordanti. La prima è la sua personale versione, quella di Joe, mentre la seconda è quella di sua madre. Ve le riporto entrambe giusto per completezza. Allora, stando alle parole di Joe, la sua infanzia è stata praticamente un incubo. Dice di essere nato in una famiglia disfunzionale, con un padre alcolizzato e assente sotto ogni punto di vista. Forse anche affetto da qualche patologia mentale. Racconta poi che anche sua madre non era proprio il massimo. Infatti sostiene che trascurava spesso i figli e non dava loro l'affetto di cui avevano bisogno. In casa il clima era talmente terribile che Joe veniva ceduto di continuo a delle famiglie affidatarie. Era un continuo via vai di casa in casa. Tornava ogni tanto dai suoi genitori, ma restava comunque via per molto tempo, con gente totalmente sconosciuta. All'età di sei anni poi, racconta che suo padre morì in un incidente stradale. E da quel momento sua madre fu costretta da sola a prendersi cura di tutti e sei i figli. Assurdo, cioè, a pensarci adesso non so come cavolo abbia fatto. Infatti non erano benestanti e lei era obbligata a fare almeno due lavori per portare il pane a casa. Joe racconta di specifico che sua madre faceva anzi tre lavori in quel periodo. La cameriera, la barista e l'autista di food truck. Per questo motivo non riusciva ad essere presente per i suoi figli e pare che cominciò ad avere un carattere abbastanza scontroso. Joe dice che era sempre nervosa, a tratti cattiva e molto irascibile. Tutto questo, in un certo senso, avrebbe portato Joe a provare un certo odio nei suoi confronti. Il ragazzo quindi crebbe in un ambiente tutt'altro che sano secondo le sue testimonianze e all'età di 18 anni si arruolò nell'esercito per andare in Vietnam. Ecco, questa è la sua versione. Sua madre invece racconta l'infanzia di Joe in maniera diversa. Non smentisce proprio tutto, ma diciamo buona parte delle cose sono diverse secondo lei. Però per esempio dice che è vero che suo marito è morto in un incidente d'auto ed è anche vero che lei lavorava tanto per portare pochi soldi in casa. Però specifica che lei faceva solo due lavori, non tre. Poi smentisce completamente tutta la storia delle famiglie affidatarie, sostenendo di non aver mai mandato i suoi figli da altre famiglie. E afferma anche di non essere mai stata crudele con loro. Anzi, dice che ha sempre fatto il possibile e si è sempre sacrificata. Racconta che Joe era un bambino sveglio, gentile e intelligente. Dice che a scuola andava sempre tutto bene e in casa anche. Faceva il possibile per crescere i suoi figli e per rendere la loro vita serena. Sempre secondo la sua versione, i problemi sono iniziati solo quando Joe si è arruolato. La donna però sostiene che suo figlio non è mai andato in Vietnam, piuttosto specifica che si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti nel 1973 e prestò servizio in Germania. Da lì, i contatti con lui diminuirono drasticamente e anzi, si azzerarono quasi. E questo per via di un cambiamento nel carattere di Joe. Cambiamento causato dall'uso di sostanze stupefacenti. La donna racconta che a causa dell'eccessivo consumo di droghe, suo figlio peggiorò sempre di più. E questa cosa la conferma anche lui senza problemi. Dice che a partire dall'arruolamento cominciò ad abusare di varie sostanze, tra cui eroina e cocaina, diventando a tutti gli effetti un tossicodipendente. Quando sua madre lo scoprì però, non fece nulla per aiutarlo, anche perché una volta tornato in patria, Joe sparì dalla sua vita. Tagliò i ponti con tutti e andò a vivere da vagabondo a Baltimora, dove sarebbe rimasto per il resto dei suoi giorni. Ecco, queste erano le loro due versioni. Come avete sentito, qualsiasi sia la verità, la cosa certa è che Joe ad un certo punto cambia drasticamente a causa delle droghe. Da quel momento in poi, la sua vita prende una piega decisamente preoccupante. Joe si ritrova solo, per sua scelta, tra le strade di Baltimora. Dorme in giro, vaga per la città, fa uso di sostanze ogni giorno e diventa, diciamo, conosciuto nella comunità di senza tetto locale. Frequenta solo vagabondi, gente come lui, persone che hanno il suo stesso stile di vita e che fanno uso delle stesse sostanze che a lui piacciono tanto. A modo suo, diciamo che, trova una nuova casa, una nuova comunità. Comincia quindi quasi subito a risiedere in maniera stabile, a sud di Baltimora, in delle baraccopoli. E nonostante tutti i problemi legati alla sua condizione, i conoscenti, i suoi amici, lo descrivono come una persona affidabile, educata e gentile. Forse è proprio per queste qualità che riesce comunque a trovare un lavoretto. Comincia a fare il camionista, lavoro che in realtà farà per diverso tempo. I suoi conoscenti amici iniziano a chiamarlo scherzosamente tiny, piccolo, cosa che Joe non era per niente se avete visto qualche foto. E durante questo periodo se la passa più o meno discretamente, lavora, viaggia spesso e conosce una donna. Non sappiamo il suo nome, forse per ragioni di privacy, e sappiamo solo che in qualche maniera si innamorano, si sposano addirittura e fanno un figlio insieme. Ma anche lei, stando con Joe, comincia ad usare sostanze stupefacenti. In realtà non è chiaro se fosse già tossicodipendente prima di conoscerlo o lo sia diventata solo una volta conosciuto Joe. Fatto sta che anche lei usa delle droghe molto pesanti e non va affatto bene se consideriamo che i due hanno un figlio. Molto piccolo tra l'altro. Tuttavia Joe a questo punto ha una vita, diciamo, tranquilla tra mille virgolette. Ha una moglie, un figlio, una roulotte che può pagare legalmente. Un lavoro stabile, insomma, non può lamentarsi. I problemi però sono due, ovvero la dipendenza da sostanze, sia da parte sua che da parte di sua moglie, e la loro sfera personale, la loro vita di coppia. Cerco di spiegarmi meglio. Lei comincia a lamentarsi del fatto che Joe non era quasi mai in casa perché viaggiava sempre per lavoro. E lui, invece, comincia ad odiare sua moglie. E la odia ogni giorno di più, non sappiamo bene il motivo. Fatto sta che non la sopporta più. L'unica cosa che li tiene insieme è il loro figlio, ma ancora per poco. E per spiegarvi meglio cosa succede da questo momento in poi, in questo episodio della sua vita, voglio usare le parole di Joe, che meglio di chiunque altro possono farci capire che cosa stesse provando. Sentite, tutto è iniziato nel luglio del 1994. Ero a lavoro, facevo il camionista, stavo facendogli straordinari quella notte. Poi scesi e tornai a casa come sempre. Ma quando ho aperto la porta e ho acceso la luce, ho notato che non c'era niente. La mia vecchia signora si era presa a tutto, compreso mio figlio, e mi aveva lasciato. La sua partenza non era un problema per me, ma ha portato con sé mio figlio di soli sei anni. Lei era una drogata, strafatta di crack e senza valori morali. Le avrei dato persino dei soldi per uscire dalla mia vita. Tutto quello che doveva fare era portare mio figlio a casa di mia madre, e avrebbe potuto ottenere tutto il resto e andarsene. Ho scoperto circa sei mesi dopo che si era trasferita dall'altra parte della città con uno stronzo che l'aveva costretta a vendere il culo per droga. Sono stati arrestati e hanno portato via mio figlio per abbandono e abusi su minori. Come avete sentito, Joe descrive la situazione come un vero e proprio trauma. Di punto in bianco trova casa sua completamente vuota, senza mobili, senza sua moglie e senza il loro figlio. E questo episodio fa scattare qualcosa in lui. Sviluppa una rabbia incontenibile e l'unica cosa a cui riesce a pensare da questo momento in poi è la vendetta. Come avete già sentito dalla sua dichiarazione, passano sei mesi. E in questi sei mesi non sappiamo bene che cosa abbia fatto, perché questo è uno dei casi in cui non abbiamo tantissime informazioni. Le cose che sappiamo di sicuro è che in questi sei mesi Joe cambia lavoro, o quantomeno comincia anche a fare un secondo lavoro come operaio in una fabbrica di pellet. Un'altra cosa che sappiamo in maniera abbastanza certa è che in questi sei mesi ha continuato a fare uso di sostanze. E infine un'altra cosa è che ha continuato a cercare la sua ex moglie e il loro bambino. Nella dichiarazione che vi ho riportato, Joe dice che sei mesi dopo ha scoperto che fine avessero fatto. Ecco, scopre tutto questo in modo improvviso diciamo. Tutto ciò non gli piace per niente. Già da tempo stava covando una rabbia accecante nei confronti di sua moglie, per cui scoprire che era scappata con un altro uomo lo fa veramente esplodere. Come viene a sapere tutto ciò? Allora, quel giorno, come quasi sempre in realtà, Joe si stava recando in uno di tanti posti in cui si spaccia, insomma in cui si reperiva delle sostanze. Precisamente quel giorno si dirige alla tendopoli per senza tetto sotto il ponte di Hanover Street, a Baltimora. Ed è lì che, tra una chiacchiera e l'altra, scopre che la sua ormai ex moglie era scappata appunto con un altro uomo, un uomo che tra l'altro la sfruttava, e che il loro figlio le era stato tolto. A quanto pare le avevano tolto la custodia del figlio per abusi su minori, quindi violenze su minori. Joe, sentendo tutto questo, pretende altre informazioni, vuole scoprire dove si trova suo figlio e vuole sapere dove si nasconde la sua ex moglie, ma anche il suo attuale compagno. Da altre parti, tuttavia, in altre fonti che ho trovato online, si racconta una versione leggermente differente di questa scoperta. Si dice che il giorno in cui Joe scoprì di sua moglie, gli dissero che viveva alle tendopoli per senza tetto sotto il ponte di Hanover Street. Quindi non è che lui era andato lì per prendere della droga, c'era andato perché aveva saputo che lei si trovava lì. Quindi, quella sera si recò lì per verificare che ci fossero sia la sua ex che il compagno. Arrivando alla tendopoli, vide due vagabondi che si stavano facendo i fatti loro. Quindi chiese loro se avessero visto sua moglie perché, appunto, gli avevano raccontato che stava da quelle parti. Ma quando i due senza tetto gli rispondono di no e gli dicono che non sanno chi fosse, non sanno dove fosse, non l'avevano mai vista, Joe decide di non credergli. E quello che vi racconterò d'ora in poi succede in tutte le versioni che ho trovato online. Quindi le discordanze si fermano qui. Dicevo, Joe non crede alle parole di questi senza tetto, è strafatto in quel momento e viene accecato dalla rabbia. Crede veramente che quei due sconosciuti avessero conosciuto sua moglie. Dice loro quindi che sicuramente le avevano venduto della droga. E dice anche loro che probabilmente c'erano andati a letto perché sua moglie aveva cominciato a prostituirsi. Loro però negano, non hanno idea di chi fosse la sua ex moglie, non hanno idea di chi fosse Joe. Veramente non l'avevano mai vista da nessuna parte. Però Joe ormai aveva deciso che voleva solo determinate risposte dalle persone. Voleva che gli dicessero dove fosse sua moglie. Voleva che nessuno gli dicesse di non sapere nulla. Quindi a queste risposte, nonostante lui abbia insistito e loro abbiano continuato a dire che non la conoscevano assolutamente, Joe tira fuori la sua ascia che si era portato per l'occasione e li uccide dal nulla. Ammazza brutalmente questi due sconosciuti che non centravano nulla con lui e con la sua vita. E non solo li uccide, ma li fa letteralmente a pezzi. Non è neanche chiaro come abbia fatto a ridurli in quel modo, a pezzettini, in pochissimo tempo. Perché secondo la ricostruzione dei fatti deve essere stato velocissimo e precisissimo. Stando alle sue parole, questo duplice omicidio è stato il suo primo vero crimine ferato. Ma in realtà non ci crede quasi nessuno perché come fai ad essere così preparato ad uccidere qualcuno per la prima volta e a farlo in un modo così preciso, veloce e riuscendo anche a nascondere le prove. È molto strano che quello fosse il suo primo crimine così efferato. Tuttavia è il primo di cui abbiamo informazioni e di cui abbiamo anche le sue testimonianze. Comunque per il momento dopo averli uccisi, tornando a quella sera, è veramente terribile quella sera, adesso sentirete. Subito dopo averli uccisi, dicevo, sente arrivare qualcuno e si rende subito conto che è una prostituta. Per cui la tira a sé offrendole delle droghe, la conduce sotto il ponte e le chiede se conoscesse la sua ex. La donna, come avevano fatto i due senza tetto prima, non aveva la più palida idea di chi fossero. Ma come vi ho detto, Joe non accettava un no come risposta. Non era soddisfatto. Anzi, non era disposto a credere a nessuno. A meno che non le avessero detto dove fosse esattamente sua moglie. Quindi decide di risolvere il problema a modo suo ancora una volta. Quindi cosa decide di fare? Uccidere anche questa povera donna che non c'entrava nulla. Come aveva fatto con i senza tetto? Non contento, oltre averle tolto la vita, la aggredisce anche sessualmente. Non sappiamo se abbia fatto questa cosa prima della sua morte o dopo. Fatto sta che l'ha fatto. E nel giro di poche ore si era già macchiato di tre omicidi. Una volta tolta la vita anche a questa donna, sente qualcun altro avvicinarsi. Si fa un po' prendere dal panico, sposta i corpi in un cespuglio e vede avvicinarsi un'altra donna. Un'altra prostituta. Senza perdere tempo le fa la stessa domanda, lei risponde che non conosceva sua moglie, la sua ex moglie. Eppure lei viene brutalmente uccisa. Joe in quel momento ha paura di essere beccato, perché ha ucciso quattro persone nel giro di pochissimo tempo. Quindi chiunque passava di lì era un potenziale testimone dei suoi crimini e doveva farlo fuori. Infatti poco dopo Joe vede un pescatore in riva al fiume. Pensando che possa aver visto tutto, decide di porre fine anche alla sua vita. Si avvicina con una sorta di tubo di metallo, lo colpisce in testa e lo uccide così sul colpo. Quella sera Joe commette un vero e proprio massacro. E tutto questo, tutto ciò che vi ho raccontato, cinque omicidi, sono avvenuti nel giro di sole sette ore. E in quel poco tempo Joe è riuscito anche a nascondere i corpi, lavandosi anche nell'acqua del fiume. In realtà li ha prima fatti a pezzi, poi per qualche motivo ha seppellito le teste, solo le teste, mentre si è disfatto in qualche modo dei restanti corpi. Non abbiamo prove concrete di che cosa abbia fatto con questi corpi, con i resti. Lui dice di averli legati in dei mattoni e averli buttati nel fiume. Ma non tutti, un corpo a quanto pare l'ha lasciato in un cespuglio, però non verrà mai ritrovato, cosa molto strana. Quindi è un po' confusa tutta questa parte della vicenda, ovvero come abbia fatto a disfarsi delle sue vittime. A un certo punto di quella sera, tuttavia, sente altra gente arrivare, quindi capisce che se ne deve andare, deve scappare. E infatti se ne va. E tutto sommato rimane sorpreso da se stesso. Cinque morti in sette ore. Per noi è una roba allucinante, mentre per lui è quasi un vanto. Si stupisce, capisce che tutto sommato uccidere gli piace, gli fa provare un brivido. Quella sera lo ha fatto sentire potente. Quindi pensa, perché dovrei fermarmi? Perché non posso continuare? Non dimenticandosi ovviamente della sua ex moglie, perché ancora provava una rabbia infinita nei suoi confronti. Però per distrarsi ogni tanto decide che avrebbe potuto continuare a uccidere magari qualche altra prostituta, dato che era stato così facile per lui togliere la vita a queste persone innocenti. Da quella sera, maledetta, passano due settimane. Ed effettivamente la polizia interviene. Perché viene arrestato, proprio per i delitti. Precisamente viene accusato per la morte dei due senza tetto, i primi due che aveva incontrato quella sera. Perché erano gli unici di cui la polizia aveva trovato qualche traccia. Ma gli agenti in quel momento non hanno idea che c'erano anche altre vittime. E Joe non aveva il minimo interesse nel confessare tutti i suoi crimini. Tuttavia la storia poteva terminare qui. Il killer è stato arrestato, giustizia è stata fatta, ma come vedete dalla durata di questo video, non sarà affatto così. Joe rimane sotto custodia per un anno e mezzo in attesa di un processo. E quando finalmente lo portano in aula, viene assolto. Viene assolto ragazzi. La motivazione è la mancanza di prove, perché effettivamente non c'erano prove concrete che potessero accusarlo e incriminarlo. Le accuse contro di lui riguardavano soltanto voci e pettegolezzi che giravano in quella tendopoli. Solo ora noi sappiamo che queste voci erano vere. Ed è assurdo pensarlo, perché Joe in qualche modo era stato effettivamente bravo a nascondere i corpi e a non lasciare tracce. Trovo davvero inquietante questa cosa, perché era stato fermato, era in prigione, la polizia lo aveva preso. Ma niente, il processo lo assolve completamente. Nonostante la prigione sia un luogo in cui solitamente, in teoria almeno, le persone dovrebbero essere rieducate, dovrebbero riflettere su ciò che hanno fatto, Joe non ha fatto nulla di tutto ciò. Anzi, nel suo tempo passato dietro le sbarre, ha riflettuto su quanto gli piacesse uccidere, su quanto gli avesse dato quel brio, quella sensazione di potere. Quindi una volta uscito, ha tutti gli effetti libero di continuare e di uccidere sempre più persone. Una volta uscito di prigione, Joe sviluppa un modo superandi tutto suo per incontrare e uccidere delle prostitute, che sono le sue vittime preferite. Sceglie accuratamente quelle che come lui sono dipendenti da sostanze e le porta nelle sue roulotte offrendo loro della droga. Ma una volta attirate nella roulotte, non dà loro la droga, anzi subito le strangola, le toglie la vita solitamente strangolandole appunto, e le smembra. Cioè, quindi le attira semplicemente con la scusa, ma appena entrano in casa, veramente subito lui agisce, subito le toglie la vita. Dovete tenere in conto che queste povere donne non avevano alcuno strumento per difendersi, perché Joe era un omone enorme. Cioè, anche io venissi attaccato da Joe, non riuscirei a difendermi in nessun modo, perché era veramente questo omone gigante che, se voleva, poteva far male quasi a chiunque. Quindi queste donne ignare, poverine, che cercavano soltanto un piccolo sollievo dalla vita, che probabilmente non era delle migliori, un piccolo sollievo utilizzando le droghe di cui erano dipendenti, si ritrovavano in una roulotte con quest'uomo pronto ad ucciderle senza nessun motivo. Oltre a fare fuori le sue vittime, riesce anche a farle a pezzi con altrettanta facilità. Dovete sapere che il luogo in cui lavora in quel periodo è poco distante da casa sua, quindi durante le sue giornate, una volta uscito di prigione, Joe lavora, si droga e poi la sera ogni tanto si diverte uccidendo. Tantissime donne perdono la vita una volta entrati in quella maledetta roulotte. E Joe, quando smembra le sue vittime, fa molta attenzione a selezionare le parti migliori, tra virgolette. Butta via il grasso, le ossa e quelli che ritiene scarti, poi mette tutto il resto in dei tupperware, che sarebbero quelle scatoline di plastica riutilizzabili, e mette tutto nel freezer. In quel periodo Joe apre anche un chioschetto di fronte alla sua roulotte per fare qualche soldo extra, e comincia a vendere hamburger, roast beef e panini, sicuramente avete già capito. Comunque, un bel giorno, il nostro Joe decide di mischiare la carne delle vittime che aveva conservato con la carne di maiale. Poi si fa un panino, un hamburger, lo assaggia, e dato che secondo le sue testimonianze il sapore era ottimo, e per niente diverso dal solito sapore di maiale, decide di cominciare a vendere questo mix di carne anche ai suoi nuovi clienti del chiosco. In questo modo si sarebbe anche disfatto di parte dei resti, e non ci sarebbero state prove contro di lui. Joe ammetterà di aver ucciso almeno 10 donne in quel periodo, veramente un numero allucinante, e quello che poi farà nel chiosco è, a dir poco, disgustoso. Come vi dicevo però, vendeva solo le parti delle vittime che lui riteneva migliori, Tutto il resto invece, quello che rimaneva di loro, lo seppelliva nel giardino intorno alla sua roulotte. Pensate che ha venduto questo mix di carne, con carne umana, per circa una settimana. Ma sarebbe andato volentieri avanti, se non fosse successa una cosa particolare. Un giorno, Joe, si rende conto di aver quasi finito la carne speciale. Quindi, attira un'altra prostituta in casa sua. Tra l'altro mi dispiace chiamarle semplicemente prostitute. Queste erano persone, avevano una vita, ognuna di loro aveva una vita, ma non sappiamo i loro nomi. Poi capirete perché. Quindi, non so, mi dispiace chiamarle semplicemente così, Ma è l'unico modo in cui posso raccontarvi questa vicenda. Chiedo scusa. Chiaramente non voglio mancare loro di rispetto. Comunque, tornando a noi, voglio raccontarvi questo episodio particolare citando le sue parole. Sentite. Tutto andava abbastanza bene, finché non ho finito la mia carne speciale. Così ho attirato un'altra stronza nella mia roulotte. L'ho portata lì, ho iniziato a strapparle i vestiti e a farle del male. Stava urlando, ma non c'era nessuno in giro a sentirla, tranne me. Io continuavo a ridere di lei, ma mi sono voltato per una frazione di secondo. E quello è stato un errore. Perché lei è corsa subito fuori dalla porta, prima che potessi raggiungerla. Ma tutto intorno al mio giardino c'era una recinzione di ferro alta più di due metri, con sopra del filo spinato. Quindi pensavo che non sarebbe riuscita a scappare. Ma c'era una pila di pellet accanto alla recinzione. E quella puttana si è arrampicata come una scimmia. Ha saltato la recinzione. Ed è corsa giù verso la strada principale. Dove un ragazzo su un camioncino l'ha caricata e portata a una vicina stazione di servizio. Dove hanno poi chiamato la polizia. Beh, sapevo che i poliziotti stavano arrivando. Ma non sono scappato. Ho raccolto i suoi vestiti. Ho preso le chiavi del cancello. Sono uscito. E l'ho aperto. Appena sono uscito dal cancello, si è fermata una macchina della polizia. E il poliziotto è saltato fuori. Mi ha puntato la pistola. E mi ha detto di mettermi a terra. Ed è lì che tutto finì. Come avete sentito, Joe non ha opposto la minima resistenza. Sapeva di essere stato beccato. E questa volta, a differenza della notte sotto il ponte, aveva lasciato scappare una testimone. Ma è comunque abbastanza strano che si sia fatto arrestare in questo modo. Cioè, si è proprio arreso. Forse però, era orgoglioso di tutto ciò che aveva fatto. E voleva vantarsene, parlarne con qualcuno. Infatti, dopo l'arresto all'interrogatorio, racconta letteralmente tutto ciò che aveva fatto. Ma anche tutta la sua storia, il suo passato. Tutto nei minimi particolari. Nei giorni successivi rimane sotto la custodia della polizia, che viene guidata da lui nei posti in cui aveva commesso tutti i suoi delitti. A partire dalla tendopoli per senza tetto sotto il ponte di Hanover Street, fino al suo food truck, con i panini di carne in parte umana. Gli agenti sono, a dir poco, scioccati sia dalla storia, sia dal suo modo che ha di raccontarla. È sciolto, disinvolto, tranquillo, sembra proprio soddisfatto delle sue gesta. E sembra anche un po' arreso, come se ormai avesse fatto il suo, e fosse in una sorta di pensione, tra virgolette. La cosa assurda è che, nonostante tutto ciò che ha fatto e raccontato, viene incriminato per soli due delitti. Gli unici per cui sono state trovate delle prove concrete. Anche per questa mancanza di prove, si crede che Joe abbia mentito tante volte. Non solo nel raccontare il suo passato, ma anche nei dettagli dei suoi crimini. Il numero di vittime e il fatto che usasse la loro carne per gli hamburger, sono informazioni che ha dato lui nelle sue confessioni. Ma non ci sono prove tangibili ed effettive che abbia fatto tutto ciò. È plausibile, certo, ma è anche plausibile che abbia mentito per qualche motivo, gonfiando il numero delle sue vittime e inventandosi la storia della vendita di carne umana. Non sapremo mai la verità a questo punto. Tuttavia, Joe viene appunto condannato all'ergastolo per una delle vittime, e per l'altra gli viene data la pena di morte. Fino al 2000 è stato così, ma in quell'anno la pena di morte è stata tramutata, commutata, come cavolo si dice, in un altro ergastolo. L'ultima notizia ufficiale che conosciamo di Joe è del 5 agosto 2017, quando le guardie del carcere lo trovano privo di sensi nella sua cella. Lo dichiarano morto poco dopo. E voglio lasciarvi, con alcune parole, prese da una sua dichiarazione. Sentite. Le parole mi dispiace non verranno mai fuori dalla mia bocca, perché sarebbero una bugia. Sono disposto più che altro a rinunciare alla mia vita per quello che ho fatto, a farmi giudicare da Dio e farmi mandare all'inferno per l'eternità. Io mi sono semplicemente divertito. In tutto ciò, l'unica cosa di cui mi dispiaccio è che non sono riuscito a uccidere i due figli di puttana che stavo davvero cercando. La mia ex, vecchia signora, è il bastardo con cui ha avuto una relazione. Beh, questa è la mia storia. Orribile ma vera. Quindi la prossima volta che state guidando lungo la strada e vi capita di vedere un chiosco di hamburger e carne che non avete mai visto prima, assicuratevi di pensare a questa storia prima di dare un morso a quel panino. Non sai mai chi potresti mangiare. Ha ha. Non ci sono molte parole per commentare questa storia, secondo me. Se tutto ciò che ha raccontato Gio è vero, siamo di fronte ad uno dei peggiori serial killer della storia. 15 presunte vittime e un chiosco in cui serviva carne umana ai clienti ignari. È davvero disgustoso e soprattutto è disgustoso il fatto che lui ne andasse fiero. Ma voi cosa ne pensate? Secondo voi, quanto di ciò che ha raccontato Gio è vero? Fatemi sapere qui sotto con un commento. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto parleremo di una famosa donna italiana che tanto tempo fa ha terrorizzato tutto il paese. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!